Tra Dana e Nicole Murgia non c'è mai stata simpatia, le concorrenti hanno litigato spesso nella casa del GFVIP. Non è, dunque, mancato l'ennesimo scontro, nato da una innocente conversazione con gli altri inquilini. Tutto è iniziato quando Nicole Murgia, Attilio Romita, Vilma e Tavassi hanno chiacchierato sull'esperienza del GFVIP e di come la stiano affrontando. Ad un certo punto, interviene Dana che aggiunge, ho dormito per giorni e atteso arrivasse la puntata. La replica della Murgia arriva subito, ma Dana tu ti rendi conto di quello che è successo a me la scorsa settimana? Guarda che non hanno mandato in onda niente di quello che è successo, se devo dire la verità. Di tutte le parole uscite, non hanno mostrato quasi nulla. Il 10%. Io che devo fare allora? Da quel momento è iniziata una lite furibonda tra le due geffine, tanto che Dana ha provocato l'attrice, preoccupati per te, di lanciare meno piatti e cornificare meno uomini. Se tu vuoi fare un percorso interessante, allora, preoccupati di te stessa. Nicola ha replicato, ancora costi piatti, sono la numero uno nel tirarli.